curami curami sto morendo muoro 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 vuoi che muoro se non mi curio muoro ma la gente qui scoppia per con pingu e il corridore circolare locola 89 facciamo una bella corsetta circolare intorno al buco questo è il diciamo la corsa scaramantica per esorcizzare le creature nel buco di culo scendi prima tecnici no scendi tecnici sta registrando fanculo foto registri e siamo tornati con data space 3 tu sono merito questo sarà sicuro il tuo compagno ha bisogno di più spazio se ti metti quel culo enorme in mezzo al buco allora qui c'è un coso per riparare dove 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 alla finestra la finestra mi sto farlo con un po' ce n'è un altro oddio com'è quello ma ci è sbordato addosso ma quello mi è sbordato addosso oh mio zio un altro vengo un altro un altro ma è che non ti faccio un cazzo questo raggio energetico un altro respingilo ricordati che spazio lo respingi santo sembra che dei settori della nave siano bloccati bloccati vai a cagare non lo so se riesco a ridare energia forse potrò togliere il blocco di sicurezza aspetta eeeh come è che si deve usare eeeh come 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 si deve usare io kit medico medio ah ma qua ci sono altre armadietti semiconduttore e munizioni io mi costo senza vita come si ci si curava q mi pare bimbiato è preso il tempo no ma il tempo fa parte di noi e dopo questa strozzata continuiamo no 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 è buio sto posto unico tu posso preferire eeeh quando viene un po' ma le c'erano si 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 va vai gira gira io ti copro vai 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 coperto vuoi andare ma c'è ii vabbè c'è vabbè ah ma fanculo di come ho fatto paura ahahah fintua entra ma sono stronzo eh ma cazzo la porta che si chiude mi dimentico sempre che qua smettila di far fare rumori molesti al tuo mino l'ho la casa cosa perché la sua bloccata bisogna andare e scendere da quelle scalette scendo prima io muoviti che ho paura la stessa su cui c'è una cosa rossa sembra sangue dov'è test spider maestro che si è venuto il ciclo questa sta incazzata perchè sento dei suoni anomali che cosa succederà adesso che mettiamoci vicini c'energia ho sentito muori a a a a a ce l'ho al culo curami curami cura mi cura mi cura mi cura mi cura mi sto morendo moro 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 vuoi che muoro se non mi curi o muoro sto premendo ah devo prenderlo devo premere a scatti ma che cazzo vuol dire cioè devi premere la ripetizione per culo addio ma la papola ha cominciato ad arrotolare il catarico mi sono presso paura muoro vuoi che muoro attivare attivare vieni qua procetto c'è da attivare a ok devo premere la freccia cazzo ma perchè prendiamo sempre ascenzo ma come si attiva non con f oddio no se ci ha aperto cazzo devo andare prima io si 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 come procedi di merda un minuto e avrò rimosso il blocco un minuto che cazzo smetti di dare colpi per terra cazzo 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 per quello di esserlo cazzo 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 io ho visto vorare la testa cazzo cosela antchenطanti prent alienita viv voilà sono un sartzham cazzo tratteremo energia fra sistemi sinistere destra aspetta qualcosa quando il cinema questaEdge chiesco usare ok cosa cazzo sta combinando non lo so devo equilibrare l'energia fra sistemi sinistra e adesso dovrebbero essere pari no no perchè ma ora no non mi fa uscire da scopo ma io ho capito come funziona sto giochetto di merda ahahah capi stru no troppo cazzone che è sto rumore chi è? neanche io cosa? dimmelo che cazzo è un lupo manalo? no non lo sa beh non lo sa andiamoci si sono barricati all'interno del settore di pranzo non voglio morire così toglierne agire alla labbra toccheremo il supporto vitale muoviti cos'è sta roba per terra? vinita o qualcosa perchè sento dei suoni che non mi piacciono per niente? non hai barre di torsione nell'inventario eh dovevamo scendere io ho sentito rumori secondo me sia un alieno ah perchè non mi fumo no merda ahia ahia io sono morto ma non mi funzionava lumino tuo compagno è morto ok chi è morto bene siamo fortissimi vedo ehm no io devo trovare scusate vieni 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 dove siete? ahahah 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 cazzo l'ho ucciso in corpo a colpo quello no l'ho ucciso o meno non so si muo quello no non si arrabbi non si arrabbi non si arrabbi intanzi tutto stiamo calma sti sui chakra eh faccia un suffritto a iurvedico si tolga dalle palle pupa no no e lì ci siamo arrivati nico eh 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 nico aspetta fammi un po' modificare no le armi no ok non ma la smetti dare calci a cazzo no 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 devo modificare le armi e ti spiego perchè oddio signori ci vediamo a fine modifica boom bene belli abbiamo finito fammi cura vai io ho aggiunto il mitra all'arma aprire incontro no no com'è brutto sto posto no dico non stai vengo e sui vengo e sui vengo e sui citazione sarà tommasi ok sono traumatizzato abbastanza andiamo Cos'è sta? Che cazzo? Ma dove cazzo sta? Eh stava preso al muro Stamperà basso non me Aumentare un po' su due scarpi che io non li vedo E' questo il demo, non devi vederli, devi avere paura No ho sbagliato, non volevo fare questo, volevo fare questo In camera 2-3 chakra Bello Munizioni al massimo Munizioni non più al massimo Roba Uh 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 manufatto scoperto premi Eh? Per visualizzare Ma neanche abbiamo scoperto Cosa? Che cazzo? Che cazzo? S'è premuto, start da sole e si è anche levato Mi coce l'ascensore, andiamo C'è un montacazzo Cosa qua Non ci possa arrivare Come non ci può arrivare? Entra Dato no ma ci si arriva da quini, e sono oggetti possono essere sempre utili Basta E quella lì al lato non ci si può arrivare Quando mi sento traumatizzato quando questi cazzucci Ehm Mi sento uguale Poche secondi prima di iniziare a giocare Il signor Pingo mi ha passato lì che mi fa Guarda dice Arrivederci Ho sentito Qualcosa che mi è rimasto traumatizzato E quel qualcosa E' stato prodotto dalla voce di Serato Manzi Bene Vengo 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 Aaaaaaah Ok Bene e dopo questa cafonata possiamo anche salutarci Qui il fedele Pingo Il trama di Salatommati No vabbè No il trauma di Pingo Io vi saluto Il titolo di Salatommati fa un bordello di visualizzazione Non giusto Ah bene sarà Nicola scegliere il titolo va Qui Pingo la Nicola Noi vi salutiamo Ci becchiamo al prossimo episodio Ciao belli Ciao